eccoci qua, anche questa volta è finito il giveaway e questa è la pagina con tutti i commenti e ora andrò a prendere come sempre il codicino che vado a inserire su suadeo e vado a scoprire chi ha vinto e la vincitrice è Veronica Stella buona fortuna ma in bocca al lupo a tutte le partecipanti vediamo ovviamente se come vedete ha lasciato 5 commenti quindi la vincitrice è lei e appena vedi il video lasciami il tuo indirizzo o tramite messaggio privato o tramite mail e come sempre ringrazio tutte le persone che hanno partecipato e come sempre, ormai lo sapete, ci sarà prossimamente un altro giveaway mi basta solo trovare i premi giusti quindi state sempre sintonizzate e ci vediamo presto ciao ciao ciao